ciao a tutti bentornati su spazio indaco benvenuti allo speciale sul segno della bilancia se siete della bilancia e incontrate sempre persone dello stesso segno nelle relazioni per un periodo di vita della vita al lavoro oppure in famiglia probabilmente vi stanno rimandando qualcosa è un escamotage dell'universo per farvi vedere delle parti di voi un modo di fare che magari è in ombra di cui non siete completamente consapevoli che fa parte di un alto potenziale o di qualcosa da guarire risolvere e correggere altrimenti potrebbe crearvi dei problemi che è utile attenzionare insomma ed indagare quindi se siete del segno della bilancia e incontrate sempre persone del segno della riete a seconda di quello che voi registrate quindi prendete nota di quello che vi dà fastidio e di quello che vi piace quello che vi dà fastidio indica che c'è una grande frizione no con una parte in ombra altrimenti vi sarebbe del tutto indifferente quindi è quella parte di voi che va vista guarita e risolta colora appunto non vi piacesse o creasse dei problemi quindi se vedete del se incontrate delle persone la riete vi stanno mostrando il modo in cui voi vi relazionate con gli altri in primis nel matrimonio o con il partner quindi nel rapporto a due nel rapporto di coppia in generale rispetto alla legalità quindi alle regole che poi immaginerete nel segno della riete c'è uno scompenso di marte o in eccesso o in difetto quindi o si subisce il partner gli attacchi del partner l'aggressività del partner o degli altri o si subiscono tutte le regole anche quelle dettate dagli altri non dallo stato non da un codice civile o da un codice penale proprio regole dettate da altre situazioni quindi o si subisce il volere le pressioni degli altri o ci si impone eccessivamente quindi c'è probabilmente a livello di scompenso in eccesso o in difetto una necessità di riequilibrare ovviamente potrebbe esserci anche un eccesso di esuberanza a seconda di quello che voi riscontrate negli incontri con gli amici della riete che fate quindi un eccesso di esuberanza o delle polemiche eccessive o non riuscire neanche a contrastare no un qualsiasi cosa e quindi non riuscire a dire no in difetto potrebbe esserci questo o anche iniziare continuamente relazioni iniziare avere proprio degli impeti anche avere delle amicizie relazionarsi con gli altri inizialmente con un grande lan con un grande slancio con una grande passione e poi con una sorta di così di noia perché c'è uno scompenso dell'energia retina che è legata agli inizi quindi indagate prendete nota e visualizzate se incontrate sempre amici del segno del toro quello che vi stanno mostrando innanzitutto è la pigrizia o il mezzo con cui voi rinascete dalle crisi e quindi anche quello che vi aspettate dagli altri quindi qual è il mezzo con cui voi rinascete dalle crisi potrebbero essere dei mezzi venusiani taurini venere di terra quindi una buona iniezione di piaceri di piaceri fisici qualcosa di legato all'estetica legato al lusso i soldi un arrivo di soldi può farvi riprendere da una crisi non c'è niente di male in tutto questo dovete soltanto vedere se è un eccesso cioè se voi badate solo al materialismo cioè se non se non c'è nient'altro che conti per voi soprattutto se questa cosa vi dà fastidio negli altri probabilmente va un attimino guardata ok quindi vedete cosa vi stanno mostrando il modo che voi avete per risorgere dalle crisi quello che vi aspettate dagli altri quindi le cose che tendete o tentate di prendere dagli altri magari i beni magari dei dei favori magari usate gli altri per stare bene quindi tutte le cose taurine annotate quello che vi dà fastidio se incontrate degli amici del segno dei gemelli vi stanno mostrando l'intelligenza la leggerezza o a volte l'indecisione quindi anche una certa contraddittorietà o una superficialità che voi magari avete nel riguardo allo studio alla conoscenza alla crescita personale all'ambizione alla voglia di conoscenza e di superare voi stessi quindi anche al modo in cui allargate gli orizzonti se invece incontrate degli amici del segno del cancro vi stanno mostrando nel bene e nel male quindi tendete nota no prendete nota di quello che vi dà fastidio e di quello invece che magari apprezzate o che vi piace molto perché vi stanno mostrando il vostro le vostre reali aspirazioni il vostro modo di raggiungerle il vostro tipo di ambizioni quindi soprattutto nel segno del cancro magari potreste registrare una certa umoralità potreste incontrare delle persone che vi fanno dire quella persona cambia cambia idea ogni volta cambia aspirazioni ogni volta non sa chi è per dire potreste incontrare delle persone che vi fanno dire quella persona pensa solo a se stesso perché perché il segno del cancro è legato al nutrimento quindi magari in eccesso potreste notare una persona che tende a nutrire soltanto se stesso ok quindi a pensare solo ai propri bisogni di contro siccome c'è sempre uno squilibrio da riportare diciamo in in equilibrio potreste incontrare dei cancro che pensano solo agli altri nutrono solo gli altri e si sacrificano troppo per la famiglia se incontrate gli amici del segno del leone questi vi stanno mostrando il vostro modo di prendervi cura degli altri di comportarvi di rapportarvi con gli amici col vostro entourage con la classe con la squadra quindi se è un modo magari megalomane egocentrico o se un modo molto leale molto nobile di punti di riferimento quando hanno bisogno ci siete o ci siete solo voi e gli altri non non ci sono solitamente il segno del leone segno veramente nobile quando ad ottave alte ad ottave basse può peccare di o di presunzione o comunque di pensare solo a se stessi quindi il solo fatto di incontrarli ripetutamente probabilmente c'è la per chi ci crede ovvio un disegno diciamo dell'intelligenza divina no della vita per farci vedere delle parti di noi potete capire se è in eccesso se è un'ottava alta un'ottava bassa del leone quella che vi riguarda il fatto che voi proviate un attrito nei vostri nei loro confronti degli amici del leone che incontrate più spesso o invece un grande apprezzamento perché sono delle persone molto nobili se incontrate sempre delle persone della vergine quello che vi mostrano ad ottave alte e ad ottave basse è il modo di essere di avversare gli altri e solitamente è un modo di essere critici quindi se gli amici incontri con gli amici della vergine che vi stanno rivelando una parte inconscia di voi che si nasconde diciamo dietro la l'apparenza della bilancia no dietro la l'armonia della bilancia c'è una parte sicuramente critica insicura quindi se incontrate è anche però una parte nemica degli altri no perché nell'inconscio c'è questo tipo di dinamiche quindi se incontrate delle persone eccessivamente insicure delle persone eccessivamente critiche delle persone che nei confronti degli altri tendono a fare tendono a segare le gambe probabilmente vi stanno mostrando delle insicurezze personali che voi avete che possono andare attenzionate se invece incontrate degli amici della vergine molto metodici lucidi che hanno fatto della loro intelligenza del loro mercurio di terra veramente uno una parte di fregge un grande valore quindi che hanno una parte critica che magari non fa sconti a nessuno però è davvero utile per avere il quadro della situazione per appunto per notare i punti critici quindi se c'è un un utilizzo dell'intelletto come dire di grande valore allora sono le ottave alte della vergine quelle che gli amici della vergine vi stanno mostrando e probabilmente la vita vi sta facendo prendere come dire atto di un grande potenziale di una grande lucidità che avete per fotografare la situazione e per intervenire nei punti critici quindi è una parte dell'intelletto e una c'è una razionalità di alto valore che va comunque tenuta in considerazione se incontrate invece amici della bilancia quello che vi stanno mostrando è una parte del vostro la parte più istintiva più immediata della vostra personalità il modo di reagire il modo di reagire diciamo nell'immediato agli eventi quindi più le cose che vedono gli altri che quelle che riuscite a recepire a controllare voi di voi stessi anche l'impressione che fate come reagite di fronte alle novità come sembrate quando arrivate in un posto quindi vi stanno mostrando ad ottave alte ad ottave basse delle qualità del vostro personaggio pubblico che se trovate non vi piacciono no potete intervenire invece se vi rimandano delle cose molto piacevole insomma è la vita che vi sta rimandando un feedback di quello che state diventando di quello che siete diventati quindi sicuramente la vita non ha soltanto messaggi correttivi però che la vita ci insegna a vivere ma la vita ci rimanda anche quello che siamo e che diventiamo se invece incontrate sempre delle persone del segno dello scorpione vi stanno dimostrando l'utilizzo che voi fate delle vostre finanze dei soldi il modo in cui guadagnate e anche il modo in cui vi nutrite o nutrite le situazioni nelle quali vi trovate quindi se c'è controllo perché stiamo parlando di un segno marziano e plutoniano quindi un segno d'acqua che quindi si muove in maniera più silenziosa anche se c'è un marte un marte molto astuto e un marte molto lucido quindi vi legate alle persone e alle situazioni in maniera lucida gli aiutate perché marte plutoni scorpione totale alte fanno il medico fanno la trasformazione fanno il curandero fanno il curatore quindi se vi rimandano degli scorpioni che aiutano gli altri che li indirizzano bene che li sostengono anche solo con la presenza anche solo dando fiducia qui stiamo parlando di atmosfere che si muovono nel campo dell'acqua dei fluidi e quindi dell'emotivo oppure vedete degli scorpioni che magari tendono a prendere che si muovono senza far non si fanno neanche sentire no si muovono in maniera molto felpata ma per secondi fini per prendere non per dare oppure tendono a controllare senza dare troppo nell'occhio tendono a controllare a condizionare a manipolare ecco questo potrebbe essere un riflesso di qualche parte di voi da mettere in luce e da prendere da consapevolizzare per quanto riguarda l'utilizzo dei soldi delle finanze può esserci un atteggiamento molto oculato oculato molto lungimirante che impedisce lo sperpero oppure di contro un proprio per la parte plutoniana che vince uno sperpero di energie quindi uno sperpero di risorse e quindi un'incapacità di mettere da parte dei soldi proprio perché ci sono delle falle plutoniane quindi piccole perdite magari quotidiane che per soddisfare vizi piaceri abitudini di cui non si è legati alla tombra di cui non si è completamente padroni che creano un emorragia se incontrate sempre persone del segno del sagittario vi stanno mostrando il vostro modo di comunicare al mondo di dare notizie il vostro rapporto con lo studio con l'uso della parola il modo di scrivere il modo proprio di comunicare anche il rapporto con i fratelli può essere un modo molto molto buono molto positivo di grandi intenti con la volontà di fare del bene perché le atmosfere sagittariane sono governate da giove quindi una grande fortuna una grande positività dare il meglio di voi nelle comunicazioni rispetto ai fratelli alle sorelle quindi essere magnanimi essere un punto di riferimento essere un appoggio essere persone che portano sempre una buona parola che portano fortuna che portano buona sorte agli altri che portano bene a volte adottava e basse voi dovete vedere cosa vi porta il segno del sagittario può esserci l'esilio di mercurio quindi magari un certo impeto irrequietezza travisare le cose perché perché non ci si è dati essendo esilio di di mercurio il tempo di riflettere quindi scarsa scarsa logica magari impulsività magari irrequietezza magari poco ascolto proprio perché perché non c'è quella parte razionale che che domina quindi oppure eccesso di slanci per un diciamo per uno uno squilibrio di giove l'eccesso di slanci eccesso di generosità ingenuità proprio perché c'è la parte bonaria di giove che si esprime e non c'è la parte razionale di mercurio che fa dire aspetta un attimo fammi guardare fammi vedere che cosa accade quindi vedete annotate quello che gli amici del sagittario vi rimandano nel bene e nel male perché nel bene è una parte di voi che è anche la vita vi sta facendo vedere quindi un potenziale no che che vi ritorna se invece c'è qualcosa da attenzionare lo capirete dall'attrito dal fastidio che diciamo queste questi continui incontri vi vi riportano se invece incontrate il segno del capricorno quello che vi stanno dimostrando e facendo vedere sono delle dinamiche legate alla famiglia all'infanzia alla mancanza di empatia all'eccesso di regole o alla mancanza di regole quindi al bisogno di esse quindi a tutte quelle che sono le qualità disfunzionali di saturno e al rapporto diciamo quindi anche con con il sacrificio con la rinuncia di qualcosa con l'imparare le regole o meno con la tristezza il vostro rapporto con le persone anziane anche con la malattia perché comunque saturno in quel determinato settore porta un certo tipo di di esperienze quindi gli amici del capricorno vi vi mostrano le vostre radici la vostra la vostra famiglia il tipo di dinamiche che voi avete vissuto all'interno della vostra famiglia che potete tendere a riproporre nella famiglia che poi create nell'età adulta quindi se incontrate dei capricorno compensati quindi rigorosi su cui poter fare affidamento punti di riferimento solide solide persone che siano di buon esempio che abbiano una autorevolezza che abbiano una buona autorità allora c'è una parte compensata delle vostre radici che si sta esprimendo che bella rimanda se ci sono capricorno che non hanno sviluppato ancora il rigore che sono completamente in balia di se stessi che cercano le regole che si appoggiano agli altri quando invece bisogna appoggiarsi a loro insomma tutte quelle oppure troppo sacrificati che rifugono qualsiasi piacere della vita proprio per un eccesso di saturnizzazione allora c'è da riequilibrare con l'empatia e con le emozioni se invece incontrate sempre amici del segno dell'acquario quello che vi stanno mostrando il vostro modo anticonformista libero di vedere di vivere l'amore la creatività e il divertimento può vincere la parte uraniana libera caotica portata a distruggere per ricostruire quindi probabilmente caratterizzata da un avvicinamento delle esperienze no o anche delle atmosfere se sempre con la stessa persona oppure può vincere la parte saturnina che può essere eccessivamente legata all'austerity quindi ho un solo partner per tutta la vita o la solitudine oppure cercare le regole e non trovarle a seconda di quello che gli amici dell'acquario vi rimandano nel bene nel male voi potete capire se vivete gli affetti il divertimento e anche il rapporto con i figli ragazzi quindi con austerità o in assenza di regole e eventualmente colmare le lacune che che vi rimandano milla sembra essere particolarmente d'accordo e infine se incontrate sempre amici del segno dei pesci nonostante la vostra ricerca di armonia e di equilibrio vi mostrano il caos l'emotività il disordine e il non trovare ancora una quadra una propria identità fissa che voi avete nella quotidianità e nella cura con voi stessi quindi a volte iper razionali a volte iper emotivi iper sensibili iper spirituali e comunque abbastanza caotici anche come dire nelle abitudini nel senso che una delle sfide che l'amico della bilancia deve trovare proprio quella di avere una quotidianità ordinata a seconda dell'eccesso che avete nella vostra quotidianità nel rapporto con voi stessi così proprio nel vostro tran tran nel vostro equilibrio psicofisico gli amici dei pesci vi mandano delle dei feedback molto interessanti quindi se c'è un eccesso di emotività di caos di dispersività o di per compensazione di iper razionalità che poi nega una parte molto importante del vostro sentire che voi non dovreste dimenticare mai che è lo spirito una spiritualità ovviamente contestualizzata al quotidiano ragazzi io spero che vi sia stata utile questa questa lettura no questo suggerimento ovviamente questa è la mia particolare interpretazione ciascun astrologo può dare un povere dei punti di vista diversi fatemi sapere nei commenti quali sono i segni che incontrate più spesso spero fatemi sapere se vi è stato utile vi mando un grande bacio e ci vediamo al prossimo video ciao a tutti